Il suo pappa. Era un'avvocata associata presso uno studio legale di penalisti. Il titolare dello studio mi mandava nelle carceri per farmi fare esperienza. Lì conobbi una prostituta finita in carcere per proteggere il suo pappa, un trafficante di droga. Prima di incontrare lo sguardo seducente del suo pappa viveva lieta e fiera della sua bellezza. Dopo averla difesa le dissi, o mia cara cliente prostituta, che immensa cosa è l'amore se non svanisce nemmeno in carcere.